Hai capito? Purtroppo si mi è tagliato il broadcast e adesso continuo registrando e poi caricando. Bene, ci fermiamo qui, ora c'è Teccheta e poi cominciamo. Tecchè, checchè, checchè? Boh. Grazie amici per avermi seguito. Purtroppo il broadcast in vivo non è durato il tempo che doveva durare perché si è tagliato il wifi, però io adesso vi saluto tutti. Grazie per aver seguito il mio ennesimo commentario al TG Rai Italia International. Ho commentato con voi le notizie e le ho commentate per voi. Spero che questo faccia vedere la stoffa di giornista che ho e che Travaglio mi risponda, perché probabilmente avrà bisogno di un cronista dall'estero. Io invito tutti voi a scrivere a Il Fatto Quotidiano per sollecitarlo a prendere certo San Ten Chan, che poi fra l'altro sarei proprio io, a collaborare col suo giornale, magari a collaborare con la Sette e a pubblicare i libri a San Ten Chan. Perché è molto importante che possa pubblicare le sue opere, le sue idee. E io so che Marco Travaglio presta molta attenzione ai suoi lettori e ai web nauti. È vero che ha una molto bella casa editrice. Purtroppo non mi ha potuto dedicare del tempo a rispondere ai video che gli ho filmati, quasi più di tre. Io non so quello che mi può rispondere, però se voi gli scrivete a Il Fatto Quotidiano, o gli telefonate a Il Fatto Quotidiano, o gli scrivereste delle lettere a Il Fatto Quotidiano, perché lui mi prenda come collaboratore al Fatto Quotidiano e pubblici dei miei libri. Vi ringrazierei tutti. E sarebbe un contributo alla conoscenza che tutti voi realizzereste. Beh, adesso qua c'è un film di Elena Sofia Ricci su Rai Italia. Io non so se continuo a guardarlo o andrà a farmi un streaming in YouTube e in Dailymotion, un hangout. E vabbè, vi lascio. Ciao, questo è tutto. Grazie per seguirmi. Il vostro bene amato San Ten Chan. Ciao.